Siamo ad Aliana per raccontarvi il match tra Viaccia e amici miei, la finale playoff di prima categoria una lunga cavalcata per queste due formazioni arrivate adesso ad affrontarsi per continuare a sperare in una posizione nel prossimo campionato di promozione dunque questa è una finalissima importante, chi vince poi va a giocarsi le proprie possibilità anche in uno scontro tra altri gironi come fu l'anno scorso per il tavola contro il Villa Basilica Viaccia e amici miei, si giocano questo posto, è cominciata la sfida, è cominciata Viaccia e amici miei con il primo lancio da parte tanto però attacca il Viaccia che ormai da anni abita le zone nobili della classifica attenzione subito a questa occasione per Dumbia, il pallone che esce profondo occhio anche al vento, grande controllo di Momo Dumbia che punta l'avversario scarica su campana, la palla che passa, attenzione la palla in posizione regolare c'è subito il gol da parte di Tosti, si lamentano i giocatori degli amici miei ma Tosti trova il gol del vantaggio, si era già visto che l'approccio era stato diverso per il Viaccia al quinto contrasto, attenzione al cartellino, è rosso, rosso viene espulso subito Storani per un calcione a palla lontana con pari protagonista e rimane a terra Saro ancora per Dumbia, ancora Dumbia con il tocco e il pallone che esce la palla tesa, calciata molto bene, arriva sul secondo pallone, Massaro un buon tiratore prova ad andare la parata di Bindi, adesso è in crisi profonda agli amici miei con il numero due, riesce a passare, c'è Martin davanti a lui, il raddoppio ancora Tosti, palla per Giuntoli che si coordina, va che va sul palo, palo degli amici miei con Giuntoli il cross è immediato, attenzione a questa palla, campana svidola, la palla che rimane lì attenzione a Carlesi, pallone che attraversa tutta l'area piccola Martin appostati fuori, fischia l'arbitro, la palla ad uscire, attenzione a Tosti che si coordina Tosti, Bindi ancora straordinario e poi c'è la posizione di fuori gioco, Bindi ancora adesso deve ripartire da questo 1-0, firmato Tosti il traspetto di fischia dell'arbitro, finta di campana, va Dumbia e porta ancora Bindi, straordinario una bella palla, Dumbia in area di rigore, arriva Piscetta, le fa perdere un tempo di gioco ancora Dumbia, ancora Piscetta, ingenuo Piscetta, calcio di rigore, giallo e quindi rosso per Piscetta in 9 gli amici miei, ma qua l'errore è stato evidente di Piscetta va Dumbia e segna, segna il gol del 2-0, viaccia che adesso sogna palla sul primo palo prolungato, attenzione Massaro prova a coordinarsi fa un gol pazzesco Massaro, gol stupendo del 3-0 del viaccia col mancino, Massaro una vera e propria perla al 19, il gol del 3-0 che sancisce la definitiva vittoria del viaccia Vigni, zona tiro Vigni punta il diretto avversario, va sul sinistro, arriva il tiro, il gol lo segna Tortoli del 4-0, rubandolo di fatto a Vigni e gol del 4-0, bello anche questo al giro di Tortoli per completare la festa al 44 altro sguardo e finisce qua finisce la finale playoff del girone B con la vittoria per 4-0 del viaccia contro gli amici miei partita finita 11 contro 9, ancora un po' di nervosismo per i giocatori degli amici miei, onore però al viaccia che vince e va alla fase successiva dunque da Agliana è tutto sui festeggiamenti del viaccia un saluto dal vostro Eccolo Landi